Salve a tutti amici di Amazon, perdonatemi se questo pezzo è fuori ma avevo già aperto la confezione quindi richiudendola l'ho lasciato fuori per sbaglio e quindi lo trovate già fuori nel momento in cui faccio l'unboxing insieme a voi comunque, unboxing, allora unboxing di questo nebulizzatore il quale io ho un modello simile ma non completamente uguale adesso vi dico il perché, cioè quali sono le differenze e credo che questo sia decisamente molto più comodo e più comodo perché più che migliore è uguale però è molto più comodo allora, confezione come vedete abbiamo un manuale, abbiamo un piccolo astuccio, abbiamo il nostro nebulizzatore che adesso vi vado a far vedere come si apre, si apre qua sopra ok eccolo qui per vedere gli accessori sono sotto la scatola ok che comprende tre maschere quindi due maschere, bambino adulto e una maschera per fare solo bocca ok, quindi un boccaglio per fare solo bocca ok scusatemi per la piccola interruzione ma dovevo soffermi il naso, sentite che non sto bene e anche per questo ho preso un aria il sole, comunque stavo dicendo le maschere e questo è il nebulizzatore nebulizzatore che come possiamo ben vedere ha anche una piccola protezione qua dove va agganciata la maschera ok, dobbiamo rimetterla abbiamo un pratico pulsante qui per l'accensione abbiamo qui un simbolo che ci indica la batteria che ha la carica massima qua che la batteria scarica e qui che il liquido all'interno sta finendo perché questo tipo di nebulizzatore qua diciamo che ha un sistema automatico dove che quando non vede più liquido si spegne da solo quindi quando comincerà a lampeggiare qua significa che il nebulizzatore non sente più liquido e quindi si sta per spegnere abbiamo il contenitore che sarebbe tutto questo blocco qua che si arriva tramite questo coperchio che va semplicemente svitato e qua abbiamo, non so se c'è dei livelli di ok, se vedete qua solo si vedete un poco ma vedete che ci sono i livelli, c'è 8 ml ok, qua tiene 8 ml fino a qua e qua, questo qua appunto è dove dovete mettere il liquido da nebulizzare poi semplicemente lo chiudete come ho appena fatto io ok, appunto avete qua il coperchio da semplicemente togliere e rimettere quando avete messo il liquido e nell'altro modello questa parte qui si può svitare e estrarre per far entrare due batterie ok, però come ho visto questo, diciamo che il sotto qua, questo coperchio qua non si svita e quindi ho scoperto che questo dispositivo ha già due batterie dentro teoricamente ricaricabili perché se vado a cliccare, vedete che si accende già significa che il dispositivo è già funzionante ok, è già funzionante quindi il cavo che abbiamo in dotazione USB, micro USB serve per ricaricare appunto il nostro atomizzatore quindi ha una batteria ricaricabile e quindi è meraviglioso perché non dobbiamo star lì a trovare delle batterie da mettere dentro oppure non dobbiamo star lì a utilizzare il cavo, ok, per farlo funzionare bensì basta che quando si è scarico lo mettete sotto carica e siete a posto lo potete tranquillamente usare quanto tempo volete bene, vi faccio vedere subito il suo funzionamento con della semplice acqua, ok, quindi io adesso andrò a mettere qua soprattutto in quella zona là perché vedete vediamo se vi faccio vedere perché è tutto nero, ok in quel foro là in fondo va a entrare il liquido e poi andrà nebulizzato da questa parte, ok quindi andrò a mettere qualche goccia dentro là e vi farò vedere come esce effettivamente il vapore che esce quindi andiamo a vedere che effettivamente funzioni eccomi qua tornato, sono andato a mettere qualche qualche goccia là dentro, vediamo se funziona oh, guardate, l'avete visto? subito pronto a nebulizzare, guardate quindi questo qua potete tranquillamente guardate, silenzioso e nebulizza molto velocemente perché l'altro modello, diciamo che un serbatoio pieno in 20 minuti ve lo fa fuori tranquillamente, ecco, va già finito e adesso giustamente lui dopo qualche secondo potete già spegnerlo voi perché giustamente lui finisce quindi basta che cliccate e lui si spegne quindi è veramente molto pratico, leggerissimo, silenziosissimo, pesa poco l'unica cosa è che dovete stare attenti che siccome il liquido va all'interno di quel buco là ovviamente come vedete il serbatoio è leggermente inclinato verso il basso ok, però se voi lo tenete troppo all'insù il liquido tende a salire e quando lui non trova più liquido magari si blocca ma c'è ancora del liquido dentro quindi dovete fare attenzione a tenerlo un po' inclinato dalla parte del vaporizzatore spero che questo semplice unboxing vi sia piaciuto il test spero vi sia stato utile io lo trovo un ottimo atomizzatore rispetto a quelli vecchi di una volta e niente un caro saluto da Thomas e il vostro amico di Amazon ciao a tutti sono ancora qua perché mi sono dimenticato di mostrarvi che questo pezzo del vaporizzatore si può giustamente rimuovere e pulire quindi ecco, scusatemi se vi ho aggiunto questa parte ma giustamente volevo farvela vedere ecco, totalmente lavabile, lo mettete sotto l'acqua, lo sciacquate, lo asciugate e poi lo andate a rimontare e tutto tramite questo pushantino che ho scritto push ecco, ho finito ciao ciao